Più di 1300 treni soppressi soltanto nell'ultimo anno con alcune linee che viaggiano con la media di una corsa saltata al giorno. Questo il quadro delle linee regionali ferroviarie gestite direttamente dalla regione attraverso Fer e Tiper a denunciarlo. Silvia Piccinini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle che dopo aver portato alla luce i ritardi con cui pendolare Emiliano Romagnoli devono fare i conti quando salgono su un treno di una delle nove linee regionali, 115.000 minuti accumulati soltanto nel 2018, con un accesso agli atti è riuscito a sapere quale sia il grado di affidabilità degli stessi convogli. Secondo i dati forniti da Fer e nello scorso anno, recita una nota di Silvia Piccinini, sono state 1.364 le corse soppresse che hanno lasciato a piedi i pendolari della nostra regione. In media si tratta di 151 corse saltate all'anno per ognuna delle tratte gestite dall'Emilia Romagna. La Parma su Zara, su Zara Ferrara, Ferrara Codigoro, Bologna Porto Maggiore, Bologna Vignola, Modena Sassuolo, Reggio Emilia Guastalla, Reggio Emilia Sassuolo e Reggio Emilia Ciano, con un aumento del 5,54% rispetto al 2017 e addirittura del 25% rispetto al 2014.